Beni per oltre 20 milioni di euro sono stati sottoposti a sequestro conservativo dai finanzieri del Comando Provinciale di Catanzaro e dagli ufficiali giudiziari nei confronti della Casa di Cura Villa Sant'Anna, struttura sanitaria specializzata nel trattamento e la cura delle malattie cardiovascolari e dell'ex amministratore protempore Rosanna Frontera. Il sequestro è scaturito dalle indagini svolte dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Catanzaro dalle quali sono emersi doppi pagamenti che l'azienda sanitaria provinciale aveva effettuato nei confronti della Casa di Cura come corrispettivo delle stesse prestazioni con conseguente danno erariale e ascrivibile al management della Casa di Cura accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, nonché i vertici protempore dell'ASP. In particolare è emersa la stipula di un contratto di cessione tra Villa Sant'Anna SPA e la società Opera SPVSRL, avente ad oggetto il credito scaturito da alcune fatture emesse dalla clinica per un valore nominale ritenuto gonfiato nei confronti dell'ASP. Dopo la cessione, Opera aveva eseguito un'operazione di cartolarizzazione del credito acquistato facendosi assegnare, in assenza di un'adeguata difesa da parte dell'ASP, diversi milioni di euro nell'ambito di nove procedure esecutive azionate innanzi ai tribunali di Modena e di Roma.